Bella raga, scusate se ultimamente apro sempre i video che sono rincoglionito duro, che sono mezzo addormentato, ma li giro sempre la mattina Allora, un altro vlog che lo so che ultimamente sto facendo molti più contenuti science based, che sono i miei preferiti, a quanto pare sono anche i vostri Però vi ho detto, come vi ho detto anche sulle stories di Instagram per chi mi segue, che avrei documentato il mio passaggio da lavorare come ingegnere a mettermi in proprio per cercare di fare della mia passione il mio lavoro E ora sto cominciando a fare i primi passi reali, oggi devo andare a vedere un pochino l'arredo per il mio nuovo ufficio, domani prenderò le chiavi finalmente dell'ufficio così domani sera ve lo farò vedere Quindi probabilmente questo video si prolungherà di qualche giorno, non sarà solamente la giornata di oggi, anche perché oggi vado con una delle persone a cui voglio più bene in assoluto A fare i giri per l'arredamento, quindi vorrei godermi la giornata con questa persona senza portarmi dietro la telecamera Però adesso voglio farvi vedere un attimo la mia condizione, perché un po' che non vi aggiorno, finalmente sono sceso intorno ai 74 kg Oggi sono 74 e mezzo, penso di essere finalmente una percentuale di grasso che mi possa permettere di ottimizzare la crescita in quanto a massa muscolare La settimana prossima è la mia ultima settimana di lavoro come ingegnere, quella dopo mi faccio finalmente una settimana di vacanza Che in due anni che lavoro non l'ho mai fatta e vado in egitto con la mia ragazza e quando torno partiremo col progetto nuovo Intanto tutto quello che faccio questa settimana cerco di documentarmelo anche per darvi magari un'ispirazione Se volete mettervi in proprie, se volete anche voi lanciarvi e provare un'avventura del genere Quindi adesso vediamo come sono messo fisicamente Questa è la mia condizione completamente depletato al momento Perché non faccio una giornata a carbo più alti da sabato, che ho mangiato una pizza Continuo sempre con l'approccio flessibile, ho visto che il video sulla dieta, l'approccio flessibile alla dieta vi è piaciuto tantissimo Considerate che io mangio un sushi almeno una settimana se non due Questo è quello che mi piace a me applicare per la flessibilità E l'ultima volta sono anche andato a mangiare una pizza Se vado a mangiare fuori almeno due volte a settimana con la mia ragazza Non so come faccio se vi voglio far vedere anche il back Eccoci, non so cosa avete visto in questo video però finalmente siamo nell'ufficio Ho avuto le chiavi, andiamo a vedere un pochino come ho messo dentro Ovviamente non c'è ancora niente completamente vuoto però vi faccio fare un pochino un tour Per vedere come sono le stanze e cosa ci sarà dentro Questo è l'ingresso, un citofono del 1500 Poi abbiamo questa stanza, questa è la stanza, devo ancora pulire tutto quanto perché dopo amarevo un po' di strumenti Qua verrà il mio ufficio, la mia scrivania, una libreria Questa invece è la stanza dove verrà la mini sala pesi Dove avrò un rack, due bilancieri da competizione, 400 e spara chili di pesi Una glutam raise, in manubrio da 5 a 50 kg Cos'altro ho? Ha una lat machine, un bullei cavo basso E un pochino di attaccature, di strumenti da utilizzare per la lat machine E avrò un bilanciere sagomato Queste sono le cose che dovrei essermi ricordare tutto quanto Tutto della marca Topskis che mi sta arrivando Ho preso un accordo in amicizia con la Topskis Ci siamo sentiti, sono un'azienda che importa strumenti per l'allenamento della porta Che sia powerlifting, crossfit o strongman Dei ragazzi gentilissimi Ho preso contatti con Luca Che è uno dei fondatori di questa azienda qua E abbiamo deciso di collaborare Collaborare nel senso che loro mi hanno dato una mano a realizzare lo studio Quindi mi sono venuti un pochino incontro con i costi per l'acquisto dell'attrezzatura E io ho già provato l'attrezzatura perché l'avevo provata a casa di Filippo Il mio ex coach E' un'attrezzatura che mi piace un sacco Un'azienda italiana Volevo fare uno scambio Io gli davo un po' di visibilità Grazie a quel poco di visibilità che ho ottenuto con il mio canale E loro mi sono venuti incontro In più mi hanno fornito un codice sconto Un codice sconto dal quale io non guadagno niente Però voi potete risparmiare il 10% se volete acquistare dell'attrezzatura Per la vostra on gym o per la vostra palestra In più ci sono anche dei pacchetti on gym sul loro sito Con i quali potete crearvi la vostra mini palestrina in casa con tutto il necessario Veramente a poco prezzo e con prodotti di qualità Quindi dateci un occhio Vi lascio tutti quanti i link qua sotto in descrizione E poi mano a mano che costruirò la palestra E proverò la roba Magari ve ne parlerò Farò delle mini recensioni In modo che se qualcuno vuole acquistare qualcosa Sa effettivamente se è di qualità o meno Tanto io non ho nessun accordo con loro Non ci guadagno niente Quindi posso essere al 100% trasparente Quindi adesso vi faccio vedere meglio un pochino la stanza Andiamo avanti a vedere il resto dell'ufficio Poi abbiamo il bagno Con l'antibagno Qua penso che metterò un armadietto Qualcosa per cambiarsi Quando qualcuno mi viene a trovare Che si vuole allenare qua con me E qua dobbiamo fare la doccia E questo è il bagno Finito Piccolino Però c'è tutto quanto Il necessario C'è uno sgabuzzino Ma non penso vi interessi lo sgabuzzino Adesso Mi devo mettere a pulire Il più possibile Perché quando arriva l'attrezzatura Voglio che almeno questa stanza sia pulita In modo che posso mettermi a A montare tutto quanto Sperando che qualcuno venga a darmi una mano Alla prossima Stiamo impazzendo per montare la roba Da due giorni Adesso come vedete Buona parte della roba è montata Ve lo fate vedere anche in qualche clip Di prima Lui è chicco Ve lo ricordate Ho fatto l'allenamento di strongman insieme Oggi facciamo un po' di punk A scuoto e stacco Qua da me Vediamo come viene I am the ghost 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 Adesso ti dico Adesso ti dico quello che penso Sono qua Vado giù Già mi sto caricando come un elastico in qua Cioè io già qua faccio fatica a scendere di più Mi aggrappo Proprio pesante Ok Con una e poi con l'altra Mi aggrappo qua E da qua Io non riuscirei a scendere di più senza appeso Quindi tensiono prima la schiena Poi infilo sopra il culo e spingo Proprio pesante Proprio pesante Eccoci Allora ho quasi finito allenamento Sto facendo Siccome non ho ancora tutta l'attrezzatura Sto facendo un po' di alzate laterale Con i dischi da 2,5 kg Pochissimo Per sentire bene il muscolo Perché io tra la spalla operata E l'altra anche che è instabile Mi fa molto male Quindi devo stare molto attento ad eseguire bene E con i manubri vado molto più pesante di così Però non avendoli Volevo evitare di fare le cose fatte male Uso i dischi da pochissimo Sto provando questo strumento infernale Che è la Glutam Raise Che non avevo mai visto in nessuna palestra in Italia Ma l'ho visto utilizzare tantissimo tantissimo in America Non avevo comunque lo spazio per una leg curl completa In questo si possono fare sia i lombari Utilizzarla come un'interestensione Che il leg curl Avrete visto le immagini Di niente la facevo Questa volta l'ho utilizzata come un leg curl E devo dire che è veramente veramente devastante Nonostante io abbia i femorali molto forti Ed è il motivo per cui riesco a staccare i chili che stacco Perché sono abbastanza forti Comunque di catena cinetica posteriore in generale E' veramente veramente pesante Non ho mai sentito i femorali lavorare così tanto Ma penso mai nella mia vita Soprattutto nella fase centrica Ci sembra che te li strappino via Veramente molto interessante e molto carina Potrei fare una recensione su questo strumento Siccome molti molti non lo hanno Però secondo me è estremamente interessante In generale ho provato un po' tutta l'attrezzatura che ho E devo dire che mi sta dando dei feedback molto positivi Ce l'ho da poco Quindi non mi posso ancora dare dei dati certi Però mi sta dando dei bei feedback Ho staccato un pochino Ho provato un pochino la panca Rack in generale Sono veramente felice Spero anche che portarvi questi contenuti Dove vi faccio vedere come passo da un lavoro da dipendente A diventare autonomo A lavorare in proprio E come realizzo questo mio progetto Che è il sogno della mia vita Spero di spronarvi E di darvi qualche contenuto un po' diverso Che vi possa piacere Ora finisco l'allenamento Che è tardissimo Sono quasi le 9 di sera E dopo vado a casa a mangiare Grazie per aver visto il video Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace Fatemi sapere se volete che io ne faccia altri video così E auguratemi in bocca al lupo Ciao ragazzi Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti